Benvenuti in Murgiavalli, siamo in McNeil GT Allard. Siamo una Internet of Things Mobility and Security Company. Siamo nel mercato europeo da oltre 30 anni. Operiamo nel settore automotive con le principali case automobilistiche, con i nostri prodotti di antifurti satellitari e scatole nere GT Allard. Oltre che operare nel settore della gestione e controllo flotte aziendali con il nostro esclusivo prodotto GT Flip 365.